Ehi signori, ho l'incommensurabile piacere e l'onore di presentarvi adesso Mr. Charlie O'Brien! E lei è sicuro che la sua impresa riuscirà, Mr. O'Brien? Ma come signorina lei non conosce lo slogan, solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Per non parlare dei 200.000 dollari di premio che vincerà se la prova dovesse riuscire. Ripeto, solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà. Ma perché lei lo farebbe gratis? Tutto bene signori? Eh, altro che, la radio non funziona. E lì c'è un'isola che non dovrebbe esserci. È vero, ce l'avranno messa ultimamente. Dammi un po' il binocolo. Cosa? Il binocolo. Ah, il binocolo! Eh. Ecco il binocolo, pronti! Quante preghiere conosci! Vabbè, salve Regina, ma remissi ricordi avete addolcenza a spettatura. No, 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 le consiglio di non fare niente di cui potrebbe pentirsi, comande! Io ogni tanto lo faccio, morimi peggio! Charlie, mi scusi, comande, comande! Io le devo fare una confessione. Mi sei a sentire? Devo avvicinarmi? Sì. Vengo, eh? Più vicino? Sì. Arrivo. Grutto mastardo! Mi hai fatto perdere una barca da 200.000 dollari, il contratto con la marvellata Fuffi, per farmi arrivare su un'isola deserta a passare il resto dei miei giorni con un verba come te! E metta giù quella noce di coco, so che tanto non lo farebbe, lei è troppo buona. Non sia cattivo più cattivo di un buono quando diventa addevo! Ehi, questa sembra buona! Che cos'è? Ah beh, non lo so, ma qui c'è scritto Solo Fuffin ti darà, forse grinta a volontà. Butta la via! Perché? Butta la via! Ah, è uno schifo, eh? Azzù! Chi ha detto? Parla troppo spento, non lo capisco. Lo tu, I speak, tu speak, I go! Tu mi impeccacatore di animali! Ah, va a cacare di animali! Ah, ma tu chi sei? Annulo de mama! Ah, anche noi abbiamo una mamma! No, annulo figlio de mama! Mama regina de Isola Pocopongo! Ma c'è qualcosa che non va, mister O'Brien? Ehi, no, 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 è solo che tutta questa storia l'ha commosso tutto qui. Vero, Charlie? Qualcuno vuole un passaggio? Ah, sì, grazie, io... No, 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 no. Io ho ancora da fare qui, e anche lui, vero? Eh, sì, siete molto gentili, ma grazie lo stesso. Ok, andiamo. Ehi, come si dice, chi trova un amico, trova un tesoro? Eh, sì, eh, oh no.